Però ha detto all'assistente segreto che abbiamo letteralmente adorato le case istantanee della scorsa volta E quindi ce ne ha preparato delle altre, a quanto pare Ok, bello questo, no? Però mi ha detto che ci sono anche un po' di costruzioni in mezzo un po' strane Boh, non lo so cosa intendesse Eh, andremo a vedere, no? Andiamo a parlare con l'assistente segreto dell'assistente segreto E cerchiamo di capire un po' che cavolo sta succedendo Ci piace come giro di parole Allora, buongiorno, io un attimo sbircio qua Instant wooden, ok, ok Ma sono strane stavolta Vedi, ad esempio questo instant skydive block È il primo che voglio provare, Steph Sono troppo curioso Oh, perché la statua? Lo so È un po' strana Lo so, te l'ho detto C'è roba davvero particolare Parliamoci, Steph Allora, buongiorno Ciao, Steph il Magnifico Sono tornato E ce ne siamo accorti L'assistente segreto è tornato per mostrarvi nuove incredibili creazioni Ma soprattutto un aggiornamento molto interessante Alla mia invenzione delle strutture istantanee Ok, ok Ok, e ci interessa molto Perché la scorsa volta erano una figata pazzesca Quindi faremo Yehi Ci sono delle strutture nella cesta Tra cui potete scegliere Provatene alcune o provatele tutte 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 Cioè, amico mio Totalmente Perché scriverlo pure? Perché ce lo chiedi, dai Era ovvio Era ovvio Questa volta però c'è un particolare molto importante Non potete semplicemente evocare le case come la scorsa volta Avete bisogno di un oggetto specifico Ah, Steph È già più complicato però Vabbè Cioè, l'altra volta era divertente Proviamo Perché con un click facevi tutto Proviamo a chiedere, vediamo cos'è Quale oggetto? Quale oggetto? Mi sto già annoiando però, eh Ah no, dai Una bacchetta magica Ovviamente Grazie al potere della magia Do alle persone la possibilità di evocare incredibili strutture Dato che oggi mi sento gentile Ho deciso di darvi ad entrambi una bacchetta magica in diamante Usatela bene e divertitevi Ok, dov'è? Instant diamond wand Ah, eccola Ok Ok Non so minimamente come funzioni Ti sei dimenticato la prima, Steph? No Sì? No Sei tu che la vedevi, io ce l'ho Ah, boh No, io la vedevo infatti Pensavo te la fossi dimenticata Allora Ok, allora Spostiamoci un pochettino Non c'è stato spiegato nulla No, infatti Noi abbiamo questa bacchetta magica Secondo me Io provo a supporre Bisogna mettere il blocco e poi cliccarlo, no? Con la bacchetta magica Io invece avrei fatto tasto destro e basta No Perché come fai a dirgli? Voglio questa struttura Allora, provo prima io poi provi tu Posso un'altra Ok? Vai Tasto destro e basta Non succede nulla Infatti Vai Allora Io ovviamente sono attirata dalle cose arcobalenose E voglio iniziare col botto, Steph Ok No Allora, facciamo random Voglio dei colori random Ok Perché non ho voglia di selezionarli Sono tipo 11 colori diversi Vai Genero Aiutami, Steph Sto cadendo e morirò Ecco qua Ecco qua Aspetta che riprendo i miei oggetti Cioè abbiamo creato un dropper Totalmente un dropper Non hai preso le mie cose, vero? No Così me le posso riprendere Cioè abbiamo creato un dropper Però non c'è una scala È perché tecnicamente doveva essere quando vai sopra Vieni, 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 vieni C'è la scala Ok Sarà una lunghissima No raga, cioè vabbè Sono cascata di nuovo di sotto, Steph Aspetta, un secondo Devo prendere la scala Ma state capendo Ma fammi prendere la scala Se noi con un click Anzi, con una bacchetta magica Abbiamo creato un dropper Che sembra tipo infinitamente alto Con delle scale per risalire E per poterti rituffare quante volte vuoi Cioè io non sono neanche a metà, Steph Non credo neanche io a fare Allora, cioè, pensa a quanto ci vuole Sì, 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 qua è proprio E poi ho detto che le scale cambiano colore In base al blocco che hanno sotto È una figata, ci hai fatto caso? Vabbè, è vero Vabbè, ma credo sia un effetto grafico Non lo so Comunque sono quasi arrivato alla cima, Fere Io ci sono praticamente arrivato Ti vedo, ti inizio a vedere Sei lontanissimo Penso davvero in una mappa Che figata Cioè, è una sorta di giostra Se ti serve per qualche mappa Alla fine lo puoi creare Però così è semplicissimo Lo devi modificare poi Esatto, proprio lo modifichi Sarebbe carino fare il nostro dropper Sarebbe molto carino Però non lo faremo Non arriveremo mai, Steph So già che lo farei troppo cattivo Però sarebbe interessante Vabbè, qui è tutta acqua Fattici sapere, Consulini Fattici sapere che mi hai incuriosito questa cosa Magari lo possiamo fare un video Dove tramite questa struttura Creiamo il nostro dropper Ci può stare Sarebbe figo Perché no? Allora, sono praticamente arrivato Alleluia, aggiungo pure Ok Non so neanche se aspettarti Quasi, non lo so, Steph No, vai, inizia ad andare Vai, 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 tranquillo Cioè, quanto è alto? Allora È finito L'altezza credo sia la massima di Minecraft Francamente Sì, lo suppongo di sì Credo sia proprio messa La massima altezza di Minecraft possibile Cioè, guardate Oh mio Dio Mi stanno vendo le vertigini Che fastidio E anche di sotto Noi non vediamo la fine Noi non la vediamo minimamente Allora, ormai ti aspetto Perché sono gentile Sappi che quando sali Mi avviene un po' di ansia di cadere Fin da subito Proprio appena superi le scale Hai paura di cadere Ti prego non lo fare Probabilmente cadrò No Ok Pronta? Ci lanciamo, vai Sì Tre Due Uno No, vabbè È lunghissimo Fa anche un gran bel effetto Guarda È lunghissimo È lunghissimo Adesso, Steph, la cosa è difficile è tornare fuori Aspetta Eh Ti prego dimmi di no Fere No, non me lo dire Fere Ma tu però sei caduta anche in acqua Basta fare il tasto destro Fere Non l'ho vista Aspetta, non devo togliere le cose dalle mani Perché sono qua Io non ti sopporto Cioè Noi abbiamo scalato E bastava fare il tasto destro Era molto più tecnologico di noi Poi c'era in tutti i lati Fere Ma come hai fatto? Ma che vuoi? Io ho visto le scale Sono andato dritta Allora, io sono cascata di così Mi giro, vedo le scale Non ho guardato il resto Perché ho detto Ok, ci sono le scale Allora che accidenti me le metti a fare le scale Se tanto poi No, Steph, lì siamo sotto terra Lo vedi il buco che abbiamo fatto prima? Ah È lì giù E come facciamo? Non lo so È un casino uscirne Molto Ma che cavolo Lo vedi? Lo vedi lì su? Sì, c'è un sacco sotto terra allora sta roba È proprio Ha preso tutto il chunk evidentemente È proprio figo comunque È stata un'esperienza incredibile Potremmo iniziare con qualcosa di più tranquillo Come prima strutture istantanea è stata incredibile Aspetta Ahah Bisogna fare delle scale Ok Fa mettere No Come faccio? Beh, teoricamente si dovrebbe poter fare Ah, certo Ok Le vedi? Sì Aspetta Ok, ce l'ho fatta Vai, vai, vai Vai Non è facile Vai, Fere Aspetta, Steph, che sei matto Eh, scusami Anche mi è stato Ok, ci siamo, no? Sì, vai A posto A posto Eccoci di nuovo qua Che ansia Comunque quanto era in profondità Tantissimo Sì, 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 sì Allora, a questo punto Vai, sciogli una tu, Steph Un po' più sobria, per favore Vai Ho tutto l'inventario disordinato Io voglio provare questa Come si chiama? Anzi, qual è? Instant glass dome block Ah, quella di vetro Che era quella che poi mi intrigava pure a me Lo sai che tanto facciamo sempre Vai Aspetta Scusa, perché penso di aver capito Ti fa un blocco di ghiaccio attorno No, è di vetro Di vetro, quello che è Fa schifo Beh, dopo aver visto un dropper così bello Diciamo che è un po' un deludente Quindi Però è carina, secondo me Sai com'è? A livello difensivo Qualcuno ti sta attaccando Tu ti fai questa struttura istantanea E sei protetto Fa schifo E beh, è vetro Cioè non protegge niente e nessuno Dai mob, sì Se tipo di notte sei Super messo male Non sai che fare Quello ti protegge Questa è molto più carina Questa è carina Anche questa Questa è molto più carina Questa vedi Seppure lo hai già messo Ti proteggi la notte E questo invece serve per la coltivazione Senza che tu debba fare nulla Questa è molto carina Cioè questa è carinissima Molto utile oltretutto Questa è carinissima L'altra fa schifo L'altra fa schifo Devi scegliere tu E la farm ovviamente Ferre Non ci voleva un genio Ma Non ho nessuna farm Vabbè Com'è possibile? Non lo so, non ce l'ho Facciamo la La miniera Visto che tu hai fatto la farm Proviamo la miniera Ok, vai Ci sei? Uh Uh No No ma non hai capito Da lì sali Ok Cioè da lì devi risalire No no da lì si risale Perché da qua ti butti E c'è l'acqua E vai tutto giù Ah inizia a minare? Sì Grazie Steph Grazie eh Da lì ti butti Sì Dovevi scendere dalle scale Steph Allora che serviva? No no dimmi a cosa serve l'acqua Allora No perché lo ascolto? Cioè scusatemi Perché lo ascolto? Chi me lo fa fare? Dimmi a che serviva Più veloce Steph Più veloce di te Vai via Vai via Dai Che così ralentiamo Dai devo riprendere A cosa serve l'acqua allora? Steph Sei odioso Dimmi a cosa serve l'acqua A cosa servi tu? Quanto manca? Siamo arrivati Dai mamma ti prendi tutte le mie cose Aspetta aspetta Fammele prendere Eh mancano un po' di cose Allora la miniera l'ho già fatta Quindi è tua Quello è tuo Spostati un minimo Lascia così Vai un po' più avanti No Steph No Steph È stata una buona idea no? Sto ricadendo Devo prendere quest'acqua Porca miseria Porca miseria Ma dov'è l'altro? Drop in real life Sarebbe stato bello Se l'avessimo preso Vero? Molto Siamo un po' tristi Era emozionante Era emozionante Molto rubo tutto Basta ci penso Quella è la mia roba No No ci penso io Perché tu mi hai rotto le scatole Da Sei pronto Steph? Sì Questa Ok E anche io la volevo mettere Vai Ah mi fa scegliere anche il nome Ok Steph Oh ma aspetta ho capito Aspetta aspetta No Hai capito? No Non può funzionare E infatti Ma mi ha detto Scegli il nome di un personaggio di Minecraft Infatti non funziona Perché non funziona? Perché sei brutta E il gioco dice Enter a Minecraft username Il mio è l'username Ah perché forse Aspetta aspetta Ho capito Devi selezionare le cose Capisci? Devi selezionare la testa Giusto? O no? Ok non lo so Ok Non ne ho Non è neanche scritto così Devi scrivere giusto le maiuscole Facciamo solo la testa Vediamo Seleziono solo la testa Vediamo cosa succede Niente Non funziona Perché non va? Non lo so Non lo so Però vedi Mi segna poi la scritta Come se l'avessi creata È un po' strano Dai Non lo so È un peccato Questo era carino Eh sì che era carino Peccato Peccato Eh vabbè Che altro abbiamo? L'acqua Ok Instant water Non lo so Mi sa che Non si crea Perché senso avrebbe? Mi fa una scritta rossa Quindi no E l'ho letta Aspetta Ci stai dicendo che ci vogliono spostare di più Vai Vado Tu inizia a scegliere quella dopo va Niente Step step ho stato tutto Prova questo Cos'è? Lava Di nuovo? Prevented from creating over mille Ah ok Allora aspetta Dici che funziona? Prova Eh ma ce l'ho qua Prendo Ah ti fai la pozzetta Ok ho capito La pozzetta? Tu lo puoi fare fino a 999 Eh lo so ma devi avere lo spot Hai una pala 999 No scava Steph vai Eh usa Vai 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 Inizio a posizionare Vai 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 Bravo bravo Sei velocissimo Steph Grazie Fere Moltissimo Sei così gentile con me E quindi in pratica tu ti fai il laghetto di lava Di acqua Questo è bellissimo comunque Sì È una figata Pensa se ti stai creando un mondo vanille È utilissimo È una figata questa Ok poi Eh mi sa che abbiamo finito Ma per niente Fere Allora mi manca qualcosa Mi hai perso un botto di roba Che ti devo dire Io ti ammazzo Questa la piscina Eccola qui No c'è pure il trampolino Eh ma qua riusciamo a risalire Sì Sì ok Scalette Tu sei la stessa in quello basso Perché paura Ma Steph non ha paura Ah ma c'è anche quello alto Non l'avevo visto Aspetta Ok Allora Quindi Fere tu mi hai perso qualcosa Non è vero Adesso tu controlli Dai vado a controllare Noioso Vai 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 Muoviti muoviti Io ne metto e sto qua Nella mia pozzetta Che è più bella della tua piscina E aspetta Allora vediamo cosa c'è Controlla cosa hai dimenticato Li voglio che li linki uno ad uno Chiedendo perdono Steph Perdono Steph Ma non credo di aver dimenticato Oh mio Dio è pieno di roba Eh sì Oh mio Dio Aspetta Allora la casa non la facciamo Perché era quella sua La farm l'abbiamo provato Io voglio quelle scale Quelle scale Basta basta Così 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 No no fidati Metti quelle C'è questo Metti quelle Anche questo Fere Vai Consolini È colpa di Steph Fammi sognare Fere Se non ha preso tutte le cose della mod È colpa di Steph Che è Ah Ok Non possiamo usarlo Mi dispiace Vai l'altro Questa non me lo fa posizionare Forse This blocks only works underground Praticamente penso che Se hai tipo capito Scavato Ti fa la scale in automatico Tutto Tutto in alto Per scappare Perché dice che crea Una via di fuga istantanea Capito Cioè io faccio così Scusa un attimo È un po' strano Ascolta Prova quell'altra Che hai visto Va Qual era? Ma che ne so Tu l'hai vista Aspetta che sono incastrata Ma che cavolo Aspetta qual'era che volevi Questa? Noi tu l'hai vista Io che cosa voglio Non lo so Mi hai proposto due cose rotte Fammone una che funziona Aspetta questa sembra bella Vai provala Aspetta fammi tornare Nella survival Ok Però mi sa che ci dobbiamo avvicinare Degli alberi Vieni 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 Ok Perché dice che prende istantaneamente le cose Harvest Quindi Ma sono gli alberi o tutto? Non lo so C'è scritto Harvest Cose Vediamo Ah lo posso selezionare Vai tutto Ah e mi ha preso Tutto quello delle vicinanze Vedi? Cioè Tu magari ti metti In una zona Raga Ha ripiantato gli alberi Ha ripiantato gli alberi E vabbè Bellissimo Bellissimo questo Siamo matti Siamo matti Allora diciamo che l'altra volta Erano strutture Per creare un villaggio Queste invece sono cose Di utilità Cose utili Cioè sono fighissime Vero? Sì molto Questa mi è piaciuta un sacco Wow Che figata Cioè questa cosa Già era geniale Se ti prendeva gli alberi Ma che ti ripianti pure È proprio il top È proprio su un altro livello Rispetto a qualsiasi cosa Fantastico 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 Mi è piaciuto un botto Direi che ci possiamo fermare Io metto il sondaggio E voglio vedere le consoline Anche nei commenti Ok Eccetera eccetera Se loro vogliono che Partendo da quella struttura Del dropper lì Noi ci mettiamo in game mode E iniziamo a costruire Tutto intorno Per renderle il dropper difficile E quindi fare i dropper E magari farne due Uno fianco all'altro E fare e studarci Una sorta come quando avevamo fatto Il versus del parkour Però con i dropper Che prima li facciamo E poi ci studiamo Chi lo fa con meno tentativi vince Fateci sapere Perché secondo me È molto carino Quindi fateci sapere Se fate vedere E poi ci vediamo in game mode E poi ci vediamo in game mode